ciao ciao ehi ciao arriva ciao fra dimmi tu ciao devo fare una bamba anche perché altro non posso fare certo ti chiamo subito giampiero ti ringrazio ciò non c'è scala allora domenica grande partita si 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 abbiamo preso i biglietti fantastico ci sono che probabilmente ci vediamo lì ma dai allora ci andiamo eccomi ciao ciao allora domenica andiamo allo stadio si ovvio ho preso i biglietti per tutti e tre grande magari avessimo pulirci contrarietta allora Francesco cosa facciamo alla barba ma io non so dire di spuntarla un po stai facendo crescere un pochino è un pochettino sto bene appoggiati pure così sei più comodo ok grazie io adesso te la sistemo ma se vinciamo a milano ogni trasferta veni qua poi ah beh sicuro sicuro allora andiamo in treno allo stadio si conviene e beh sì direi cosa ti metti eh non lo so non avevo più idea vabbè dai ma non te le fai scusami no pronto come scusa arrivo subito arrivo arrivo che è successo ho avuto un intervisto devo scappare per favore puoi avvertire Francesco ma sai che cosa è successo non lo so spero niente di grave ciao a voi tutto bene Francesco si piace ti do solo un po di troppo barba è ugualato ti lascio andare grazie mille grazie a te viena domenica d'accordo ciao 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 come stai bene immaginavo di trovarti qui sai e mi sono anche lasciata ma con chi con il mio amico interista sì proprio lui e per dimostrarti quanto ancora ti amo ti ho fatto una sorpresina due biglietti per la partita inter toro andiamo insieme non li voglio la fede è come l'amore non si tradisce grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti